Immaginati tre donne circondate da dieci persone, dieci, quindici persone che in cinque minuti non è neanche la capacità, tant'è vero che la prima reazione è stata di panico, poi per fortuna sono riusciti a ripartire. Attimi di follia domenica sera, conclusione della derby lucchese Arezzo, quando tre tifose aretine di cui una di 77 anni sono state aggredite da un gruppo di 10-15 persone, presumibilmente tifosi della lucchese. L'episodio è avvenuto nelle immediate vicinanze dello stadio Porta Elisa Di Lucca, le tre donne si trovavano in auto quando sono state minacciate con spranghe, cinghie, cinture da alcuni facinorosi che si sono accaniti a calci contro la macchina. Hanno spaccato il lunotto posteriore, hanno continuato a aggredire, tant'è vero che una delle mie assistite che si trovava nel vano di dietro dell'autovettura ha ricevuto un colpo alla testa, lunotto laterale spaccato, anche il guidatore ha avuto un'aggressione dal punto di vista fisico. È immediatamente arrivata la volante della polizia e sono gli stessi poliziotti che hanno condotto con la propria autovettura perché era inservibile l'autovettura delle mie assistite e l'hanno portata direttamente al punto di soccorso. Le tre accompagnate la sera stessa in questura hanno sporto denuncia contro il comune contro la lucchese calcio. Il loro avvocato, anche lui presente la sera dell'aggressione, sta valutando inoltre altre azioni legali. Non ho mai visto una mancanza assoluta di polizia locale o non nel settore fino a non arrivare in zona di sicurezza. Infine proseguono le indagini portate avanti dalla Digos della questura di Lucca per cercare di risalire agli autori dell'aggressione. Nei prossimi giorni saremo in questura per fare i riconoscimenti nel book che probabilmente avranno preparato. Una di queste persone potrebbe essere già stata colpita da Aspo? Parrebbe di sì.